È un processo che va avanti da diversi anni, ovvero la liberalizzazione totale, completa del mercato dell'energia e l'anno 2024 è stato l'anno appunto della fine del mercato tutelato sia della luce sia del gas. È necessario specificare che mercato tutelato significa un mercato dove le tariffe sono stabilite dall'autorità di regolazione del mercato dell'energia, la RERA e il mercato libero invece è molto più complesso perché le tariffe e le condizioni economiche e contrattuali sono stabilite dal venditore singolarmente. E quindi ecco dobbiamo fare attenzione perché usciamo un po' dalla concezione che i prezzi sono un po' controllati, sono tenuti sotto controllo e dobbiamo stare attenti perché appunto il mare del mercato libero dove abbiamo più di 700 venditori ci offrono condizioni economiche molto convenienti tante volte ma alla fine quando arriva la prima bolletta tante volte scopriamo che non è così. Sì quindi dobbiamo fare assolutamente attenzione alle truffe telefoniche, alle truffe online quindi via email, via sms per fare appunto dobbiamo fare attenzione perché ci possiamo trovare in difficoltà con costi molto elevati. Noi stiamo cercando, abbiamo avviato ormai da diversi anni una campagna di informazione per appunto sensibilizzare i consumatori a magari controllare o comunque capire quali sono i parametri quelli importanti da valutare appunto per non trovarsi poi delle sorprese perché appunto i venditori sanno benissimo quali sono le lacune dei consumatori e omettono, nascondono dei costi che poi sono fondamentali e appunto comportano veramente degli aumenti spropositati per quanto riguarda i consumi.